Musica Questi non si fermano più Quanto hanno preso? Intorno ai 5 milioni Cercheranno di uscire da Milano E chi riesce a prevederli? Mettiamo questi blocchi, eh? Ma fuori di città, mi raccomando Va bene E perché questi non li dividono? Perché ci facciamo la nostra buona azione quotidiana E Luis mette a posto la sua coscienza Noi sì che siamo buoni Falla finita, Gio Ti arriva l'odore E piantala con queste strozzate